È un'occasione unica per la cittadinanza e i visitatori del museo poter entrare in questi depositi perché a differenza di altri più ampi e più agibili che già sono stati aperti al pubblico questi richiedono anche particolari misure di sicurezza per il tipo di oggetti custoditi e quindi solo in una circostanza come questa organizzata dal FAI e seguita nella sua organizzazione può consentire questa apertura. È il modo per vedere con che cosa, con quale realtà chi lavora al museo è a contatto pressoché tutti i giorni. Materiali non di seconda scelta ma depositati solo per la loro enorme quantità.